Il Comune restituisce a 11 anni dal terremoto la seconda scuola, la collettività, la prima proprio sul territorio. Dopo Arischia, oggi circa 400 bambini sono tornati nella Maria Leventra, ricostruita, bella, moderna e sicura. La scuola, visitata durante i lavori anche dalla titolare dell'istruzione, Lucia Azzolina, non ha potuto avere un'inaugurazione degna del momento a causa delle restrizioni Covid, ma solo una piccola cerimonia dinanzi alla scuola primaria per scoprire la targa inaugurale dell'edificio alla presenza del sindaco Biondi, della preside liberatore e della dottoressa Antonella Tozza, direttore dell'ufficio scolastico regionale. Questa riapertura della Maria Leventra oggi all'Aquila ed è un auspicio per tutte le scuole dell'Aquila che dovranno essere ricostruite, perché tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze del nostro territorio meritano di avere una scuola bella, sicura, accogliente e innovativa come questa di Maria Leventra, che appunto, come ricordavate, è la scuola, la prima scuola della città che riprende vita. Davvero un giorno storico, una giornata particolare, bella, entusiasmante, che dà speranza in una giornata che è anche di rientro a scuola di tanti ragazzi, parliamo di 110 mila ragazzi in Abruzzo della primaria, del primo ciclo. Quindi una tappa importante in un processo di ricostruzione dell'edilizia scolastica aquilana che ha bisogno di una spinta e che questa giornata dimostra che questa spinta e questo impulso si sta realizzando. Non tutti gli studenti però andranno nella nuova scuola, alcuni per ora restano nel MOSP. Nei giorni scorsi i comitati hanno fatto notare questo aspetto, ma sono tornati pure sulla lentezza della ricostruzione scolastica. Due scuole dopo 11 anni sono poche. Abbiamo in cantiere almeno otto scuole che potranno iniziare i lavori nel corso del 2021. Naturalmente se non ci saranno problemi di natura burocratica che al momento non vediamo all'orizzonte. Ci sarà anche, io spero, l'avvio dei lavori della scuola Mazzini e della Giovanni XXIII che sono procedimenti in capo al provveditorato alle opere pubbliche e spero anche entro l'anno di risolvere il problema della scuola di Paganica attraverso un accordo fra il Ministero della pubblica istruzione e la struttura di missione. Ci mancano dei soldi per gli espropri e per liberare l'area dove è previsto l'insediamento del polo di Paganica. Avremo comunque la posa della prima pietra su istituti importanti senza nulla togliere agli altri. Uno nella zona ovest sarà quello di Sassa, per cui abbiamo approvato anche l'accordo di programma con la provincia per la viabilità di servizio, un altro nella zona est, il polo di Torretta-Santelia-Gignano.